Belli pei, sembra che l'anzia Teresa fatta la spesa, fatta la spesa ah mi ha prenduto l'alice e ora sta andando a pulizzo fritto, sale e pepe e facciamo un po' per lo zappo, vedi? ah si ma io non ce lo voglio il pepe senza pepe non usiamo niente sale e pepe così si riesce, l'alice fritto, sale e pepe sono sapere sto paziano, volevo vedere la tua reazione qual era solo perché volevo uscire la silla a me meglio toccateci tutto ma non ci toccate tutto anzi come si è una pulizzo che l'alice? si va a capo e mano in mano si deve prendere la pepe e mi? mi rimane a prendere la testa vedi? vedi? mi porta la testa e tutto il pepe poi se le fai durante qui se le fai circa e se le fai spina a me allora apri tutto allora lo ducce perché lo ha spina invece che se le fanno fai qui a dire che si fanno fai qui a tutto a tutto e poi lì proprio lì non lo facciamo da qui dopo la mano lì va a spina sempre niente poi che c'è una assunta non lo facciamo da qui non fa basta assunta non riesco a dire quindi se le fanno fai pulizzo perché non facciamo una assunta? è pulizzo quanti modi si possono? non parla di amici uno si chiede ma non catterebbe 2 euro e 50 mezzo chilo mezzo chilo, mezzo chilo, mezzo chilo quando tutti mangiano? 3-4 pochino? si un po' tre pezzo poi dipende pure la fama che a tenere perché se tiene una fama dal mezzo chilo basta solo per te invece a me non lo so no le gente le fanno azzù mi mettono un po' che fanno azzù e se per aiutare i comprati perché non faccio ehi Teresa andiamo all'infarinatura all'infarinatura andiamo all'infarinatura andiamo all'infarinatura andiamo all'infarinatura e poi mettiamo e poi mettiamo e poi mettiamo e fai e poi mettiamo l'infarinatura ma secondo me la zitta non mi hai sbagliato un modo no no ecco qua eh era questo il metodo si però ma non era prima allora non vuole accadere non c'era la farina poco ecco qua però ecco qua adesso si vanno alla frittura alla questo da 50 anni fa quando i genitori facevano un corrido nel corrido questo è un pezzo tempo che signori questo si ricorda il corrido di zia Teresa nel 76 76 eh ti sei sposata nel 76 eh eh 76 quant'anni sono? 46 cioè quasi 50 eh ma c'è più 50 se aveva ancora mio marito vabbè nel ricordo nelle emozioni nelle emozioni è solo da ricordare solo da ricordare solo da ricordare vabbè però sono sono ricordi che è una sono 22 anni che se n'è andata eh vabbè zia però però noi dobbiamo andare noi da lui eh certo è vero ma però sono stati 24 anni passati sì 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 ah no quell'anno io era 25 anni matrimonio quell'anno che lui non c'è più io sì è stato per spadagnare ahahah 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 ci sono pure un luoglio metto il bello caldo sale e pepe sale e pepe sale e pepe sale e pepe e poi vieni la cosa manca vieni la cosa manca vieni la cosa manca vieni la cosa manca semplice sì ma che è la cosa semplice è la cosa più bella può arricchire la tavola sì tu prendi mezzo chilo di alice ok e metti la rompere con mezza tavola cioè con 3 euro fondamentalmente eh tu ti faccio il bubietto alice sì ma che è tempo perché uno sale e pepe uno lo prende sempre per stuzzicare ma che l'è un secondo eh sì è un secondo è un secondo prendi alice e faccio la fritta e faccio il bubietto alice e faccio il bubietto alice faccio la fritta ma faccio una bella zuppa e pesce con il pane sotto e mi scaffo cosa vuoi di più cosa vuoi di più cosa vuoi di più eccola ci siamo siamo bene a fritta eh lui gli si è fatto carne non è pronta ci siamo ah sì ci siamo ecco qua questo si chiama l'opera di buota pesce eh eh buota pesce ah sì hai cipigliato pure il pepe e lo vuoi che beh ti ho sale e ti mettiamo quello qua sotto il po' sale e lo soffri che è tutta coppia miglior pepe eh te l'ho anche abbondata guarda che ti dà mezzo al friccioletto e poi mangiare molto le spinne non ci un friccioletto in modo tale che eh buono adesso è buono davvero 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 consolato vedi vedi cosa ti mangia eh alice bella fritta and then I just want